Operazione Ottavo Comandamento, così l'hanno chiamata l'attività disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, coordinata da Giovanni Bombardieri dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria e delle Compagnie di Reggio Calabria e Melito Portosalvo. Perquisizioni domiciliari nei confronti di sette indagati per associazione per delinquere, finalizzata la commissione di truffe assicurative, falsa testimonianza e corruzione. Fra gli indagati, tutti reggini, il titolare di un'autocarruzzeria e due avvocati. I provvedimenti hanno origine da un'attività d'indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, coordinata dal sostituto procuratore Stefano Musolino, avviata per riscontrare parte delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Si indaga su un'organizzazione dedita alla commissione di truffe in danno delle compagnie assicurative con la simulazione di incidenti. Il fine ultimo sarebbe quello di ottenere lauti risarcimento dalle compagnie assicurative adottando ogni forma di espediente.